vai io ho il sacro santo diritto di essere mafioso puoi dire micchia guardi o di micchia guardi non si dai dai si guarda te guarda me 3 2 1 via riccardo vai riccardo guarda la s***** vai riccardo guarda la s***** via riccardo la piante di giocare al computer c'è un cazzo perché sta pagina di merda ragazzi ho fatto il segno vai mi fanno cazzo ma che cazzo fai dove guardare il computer guarda la s***** guarda lì quindi mi fai così che cazzo è sta cosa perché riga devi far così perché dopo con l'effetto perché infatti con l'effetto vai rifallo che te poi non lo guardi però fai così vieni qua via 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 ri che cazzo fa tornati super ma poi teo ricas ma dai ma cia st'alena nooo nooo ahahah 1, azione 3, 2, 1, via Che cosa sta succedendo? La peste, è in vaso Tirenze Dovremmo restare 15 giorni qui dentro 1, via Ma cosa sta succedendo? La peste, è in vaso Tirenze Dovremmo restare 15 giorni qui dentro 3, 2, 1, azione Ma cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? La peste, è in vaso Tirenze Dovremmo restare 10 giorni qui dentro Per alleviare la noia 2, 1, azione Ma cosa sta succedendo? La peste, è in vaso Tirenze Dovremmo restare 10 giorni qui dentro Per alleviare la noia No aspetta Dobbiamo raccontarci delle novelle 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via Riccardo, è pronto a cena? Quando è che vuoi sbrigarti? 3, 2, 1, via Riccardo, basta studiare, esci 3, 2, 1, via Riccardo, basta studiare, esci Non c'è quando avantiare 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via Riccardo 1, via Riccardo 3, 2, 1, via Vai Ma perché vai? Cioè, porta il fatto che il libro deve essere aperto Questo qua Magari Ma ci stanno in quella tira la tina di camminare? Va bene, va bene Che cazzo di faccia? Raga, zitti, zitti 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 3, 2, 1, via La tifu 3, 2, 1, via Sì, sì, arrivo Sì, sì, arrivo papà No, per ci stai avvicinando Ma che cazzo? Perché parli? Ma perché parli? Perché parli? 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via Sì, 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 papà Adesso arrivo 2, 2, via Raga Raga, zitti 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 3, 2, 1, zitti Sì, sì, papà Adesso arrivo 3, 3 3, 2, 1, via Sì, sì, papà Adesso arrivo Perché parla? Porco di c***o Merda, mi sto incazzando come una iera